Eh, come si fa a telefonare qua? Vado a schiacciare il tastino verde Il tastino verde? Ecco fatto Ma io devo telefonare a Roma però, eh? Veramente non si potrebbe, però c'è un trucchetto, no? Con l'altra mano schiacci il tastino rosso Questo qua? Eh, vabbè, ho fatto Adesso faccialo 06 e poi il numero Con chi lo faccio, quel cazzo?